La prima piattaforma ancorata al fondo alle sue boe e da qua partirà la corsa ad ostacoli. Elena è la prima a far arrivare la boa lontano dalla piattaforma, adesso si aprono 5 insieme a Pamela Camassa, che è la seconda e Claudia Motta che è la terza, Cristina scuccia la quarta alla grande in recupero, mentre Elena ha raggiunto quasi metà della seconda piattaforma facendo scorrere la boa lungo il filo di Arianna. Pamela subito dietro, ricordo che la prima che arriverà si potrà giudicare la possibilità di combattere la prova leader fondamentale per l'immunità della tribù stessa. Questa è una prova importantissima, mentre arrivano all'ultima piattaforma dovranno salire una scala e dall'alto far entrare la boa all'interno dei cesti. La prima che lo farà avrà accesso al bazar, ecco la boa che scivola lungo il filo di Arianna, Davanti c'è Elena subito dietro, Pamela, quest'ultima parte del gioco è molto molto particolare perché non è detto che prima... Eccola Elena ha raggiunto il cesto ed è lei la prima ad arrivare al bazar. Grazie!